È arrivata l'ufficialità, l'ufficialità in questi giorni, intanto è bella ragazzi, benvenuti, Emil Robach, questo giovane di 17 anni, è un nuovo giocatore del Milan, giocherà in primavera, sarà un video semplice, con pochi minuti, uno, massimo due. Il Milan è stato facendo acquisti, molti acquisti, è già il terzo acquisto che fa molto giovane, perché ha acquistato, sono le makers che aveva 21 anni, fa accostare con il Robertson, che è Robertson, non è quello del Liverpool ovviamente, che aveva 19 anni, 20, ma ha accostato questo roba che ha 37 anni, giovanissimo, che proprio è vero, è molto molto buono, si può dire, Poi, crescerà in prima squadra, crescerà, 17 anni, centrocampista, centrale, potrà fare bene col Milan, alziamo le mani perché non lo so, io intanto per il Milan ci prende, questo è il gioco, sta potendo anche Bagaiuco, quindi, se prende un giovane ci sta. Quindi ragazzi, fammi sapere nei commenti cosa sono iniziato in questo acquisto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!